Lunedì 26 aprile inizierà il percorso graduale verso il ritorno alla normalità. Dopo l'annuncio del Premier Draghi sulle riaperture di bar e ristoranti ma soltanto con i tavoli all'aperto, gli imprenditori sono già all'opera per organizzarsi anche con i permessi. D'altra parte i comuni, come quello di Fano, si sono attivati per agevolare le attività, tra le iniziative quella di semplificare l'iter burocratico e di concedere un aumento degli spazi pubblici occupati. Innanzitutto il decreto in arrivo dà sicuramente un'apertura, anche se sappiamo non essere sufficiente perché il momento di crisi economica è davvero pesante, però veramente speriamo che sia l'inizio di un'apertura graduale che porti tutti a lavorare e da lavorare al meglio e speriamo che questa estate sia proprio il momento di grande apertura che detti la fine di questa pandemia. Quindi la possibilità di chiedere suole all'aperto, noi ci siamo attivati fin da subito, cambiando il regolamento e dando la possibilità di chiedere fino a 100 metri quadrati di suolo pubblico. Ci siamo attivati per rendere gratuita la TOSAP e ci siamo attivati con una commissione che si incontrerà anche mercoledì proprio per sburocratizzare le richieste di suolo pubblico e quindi emettere i permessi in modo più veloce possibile. Cerchiamo di fare quanto è il nostro possesso per essere vicini alle attività economiche in questo periodo così difficile. Sappiamo che le misure che possiamo fare noi come Comune non sono sufficienti, ma da parte nostra sempre una grande vicinanza a tutte le attività economiche e una possibile ripartenza.